Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. Non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G. Anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà tra in aula e parla perfettamente cinque lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tardaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però ci ho 18 fratelli. Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa un miliardo al giorno. Il mio papà guadagna 10 mila lire al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10 mila lire al giorno. Il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola, segniamo i numeri coi fagioli. Noi invece segniamo i fagioli coi numeri, per non perderli. Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno la macchina, la villa e il motoscafo. Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto guarda, basta. Grazie. 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 Grazie.